Musica E' stata inaugurata presso la Galleria Sant'Andrea in Via Cavestro la mostra Il Giro a Parma, esposizione fotografica documentaria legata alla Corsa Rosa nella nostra provincia. Tanti gli appassionati presenti che si sono mescolati tra le personalità del ciclismo e dello sport parmense che hanno vissuto direttamente o indirettamente il Giro d'Italia. Abbiamo sentito le loro impressioni. Siamo con l'assessore Ghiretti all'inaugurazione della mostra sul Giro d'Italia. Assessore, si può dire che con oggi, sabato 30 aprile, è già cominciato il Giro d'Italia che passerà da Parma? Beh, è cominciato perché intanto sta rivivendo la memoria, no? Oggi è un giorno in cui diciamo che parte il nostro Giro perché cominciamo a studiare quello che è stato senza sapere quello che è successo, le emozioni che si sono provate, quello che è avvenuto sulle nostre strade ci manca un pezzo e quindi ci stiamo anche noi preparando per una due giorni che dovrebbe essere molto molto intensa e in cui tutti dovrebbero essere appunto i giusti protagonisti, sia nella volata finale, nello spettacolo finale ma anche nella possibilità di animare in continuazione queste due giorni. Questo possiamo farlo se abbiamo memoria di cosa vuol dire il ciclismo. Il ciclismo è il popolo, è la bellezza della solitudine, è l'unione di un gruppo, è la fuga ed è il distacco, è la montagna ed è l'acronometro. È qualche cosa che ti entra dentro e ti fa vivere momenti incredibili. Anche perché tu ne sei in qualche modo protagonista, ne sei diretto protagonista. Viene a casa tua da una parte e alla tua portata dall'altra. E quindi vivendo questi momenti vivremo ancora più bei momenti nei prossimi giorni. Bella iniziativa soprattutto se consideriamo che è la prima che si svolge a Parma come mostra sul ciclismo. Sì, credo molto che lo sport sia un generatore anche di cultura. Non sia solo un fatto muscolare ma sia un generatore sociale e un generatore culturale. In questa logica abbiamo favorito e favoriamo tutte le iniziative culturali perché portano valore aggiunto allo sport. Dall'altra parte penso che senza cultura lo sport soffra perché poi lascia lo spazio al doping, lascia lo spazio a improvvisatori, lascia lo spazio a personaggi senza arte né parte. Ecco, Parma c'è un tessuto di associazionismo sportivo molto forte. Quando si unisce riesce a fare di tutto e di più. E questo secondo me è uno dei nostri punti di forza che dobbiamo sviluppare e non certamente far decadere. Siamo con Paolo Gandolfi, uno dei due curatori della mostra del Giro a Parma. Ci ritroviamo qua dopo quella fatta per il cinquantesimo dalla morte di Fausto Coppi. Questa invece è dedicata interamente al Giro d'Italia. Sì, al Giro d'Italia a Parma, cioè specificamente alle tappe che sono arrivate o partite da Parma o nel Parmense. Noi volevamo, siamo amanti del ciclismo, volevamo assolutamente fare una cosa sul Giro d'Italia a Parma e siamo riusciti e ringraziamo l'amministrazione che ci ha dato questo locale e poi il resto l'abbiamo fatto noi. È stato difficile trovare tutti i cimeli in questa memorabilia, diciamo? No, perché sono quasi tutte cose che appartengono alle nostre due collezioni. e quindi abbiamo avuto comunque un aiuto, soprattutto per quanto riguarda le maglie, dagli amici ex professionisti di Parma. In futuro, per l'anno prossimo, possiamo mettere in cantiere una nuova mostra con qualcosa in più? Sicuramente. Noi abbiamo del materiale di tutti gli sport, voglio sottolineare, non solo di ciclismo. Abbiamo materiale per poter fare una mostra anche molto più grande, ci piacerebbe molto. Riusciremo adesso ad esportare questa mostra anche magari fuori dai confini, diciamo, di Parma? Non lo so, questo non dipende sicuramente da noi. Io ho avuto dei contatti anche con la Rai, hanno detto che mi andavano a vedere, però queste sono cose più politiche che non a nostro livello. Siamo con Alberto Michelotti dietro la tabella dei campionissimi, perché lui è un campionissimo del fischietto. Alberto, l'abbiamo visto lasciare un ricordo scritto sul guestbook. Cosa ha scritto? Ho scritto che mi emoziono vedere queste belle esposizioni, perché anche io ho fatto otto anni in Gio d'Italia, sono poi diventato responsabile arrivi e partenze, dunque ho vissuto direttamente con tutti questi corridori, con tutte queste emozioni, con questa determinazione, con quella motivazione che questi corridori hanno, con quella cattiveria, perché la sofferenza ti porta anche a essere cattivo. E sulle grandi montagne quando vedi questi uomini che lottano anche contro se stessi, io mi emozionavo da morire. Io ho fatto sport, ho fatto pallavolo, calcio, ho fatto rugby, ma entrare in questo contesto del ciclismo, quando Torriani mi ha voluto con lui, perché soltanto io portavo il Gio d'Italia per la prima volta a Parma, grazie alla cassa di risparmio ovviamente, perché senza bagarò, senza soldi, non può fare niente. Invece mi hanno dato questa possibilità, poi mi sono appassionato e lavoravo tre mesi al Gio d'Italia, ma non facevo solo il Gio d'Italia, però, Gio del Piemonte, Giro Lombardia, Milano Sanremo, la Parigi Roubaix, tutte queste cose, e stavo via 60-70 giorni, ma mi aveva preso completamente. Questa cattiveria, questo agonismo che hanno i corridori, potrebbero avercela anche qualche giocatore in campo, soprattutto nel mondo moderno. Io dico sempre queste cose, con la cattiveria, ma la cattiveria sportiva, la cattiveria per arrivare, per conseguire, per ottenere un risultato. Se fai come facevano i certi tenori dell'Ottocento, buonasera, mi insegnò, capito? No, no, mi vedo, se le grenta, voi vedo, date il bocchetti, così lo sport, senza cattiveria sportiva ovviamente, senza far del male a nessun altro. Ma poi lo sport ti appassiona, anche qualche compagno, avversario, vuole via anche qualche volta qualche schiaffo, però i miei amici più importanti sono quelli. Ti lasciano un segno che è per tutta la vita. Ultima cosa, usciamo un attimo dal seminato. Cattiveria sportiva per il Parma, riuscirà a trovarla per salvarsi? Ma in queste due settimane, me le due, anche, vado a dire che bisogna dare il bocchetti, bisogna buttare anche i carletti, perché quando vado in campo non vuole mai perdere, poi dopo ciò fa anche 6-7 gol, però vuole la cattiveria qui, la volontà qui, la determinazione qui, perché voglio ottenere un risultato. Guai, se noi, come dice, mi è nuoto, e dà il bocchetti che fanno scappare un ca, ovlina me ne è bissa. Quindi il Parma si salva. Sicuramente. Siamo con Vittorio Adorni, una delle icone più importanti del ciclismo di Parma, una delle persone che ha donato più reperti per questa mostra. Beh, credo che quando Gandolfi Paolo ha chiesto l'idea di fare una mostra per il Giro Italia, ho aperto un po' l'archivio, insomma, ho tutte le mie foto, le mie cose, che sono come le reliquie, perché poi ogni tanto le vado a guardare, quindi così per ricordare poi i tempi passati. È sicuramente molto bello, perché passando gli anni la gente, molta gente, non ricorda queste cose, le ha seguite magari in televisione, le ha lette, però rivederle oggi sicuramente molti ricorderanno quei tempi. Qua la vediamo di fianco a una bici da pista con il rapporto fisso. Un tipo di bici che è tornato moderno proprio negli ultimi anni. Ce la vuole descrivere? Ma la bici da pista è una bici senza freni, con dei rapporti, direi, pignone fisso, perché in pista bisogna sempre pedalare per non cadere, perché poi in fondo se uno guarda le sei giorni o le gare in pista sicuramente non capisce come si fa a non cadere mai. Qualche volta cadono in volata, ma non proprio così, perché in fondo il pignone fisso ti obbliga a pedalare, quindi la velocità rimane quasi sempre la stessa, però è una bella emozione perché la pista è sempre stata un qualcosa di speciale, ma molto bella. Io praticamente ho cominciato, direi, ho cominciato a pedalare su strada, ma poi la mia specialità era la pista, l'inseguimento e devo dire che è stata la mia fortuna perché sono stato convocato dal commissario tecnico Costa nel 60 a Rom per fare le Olimpiadi e lì ho iniziato la mia carriera. Mentre qua invece più a lato vediamo la maglia di campioni ridata conquistata a Dimola. È quella originale oppure è un doppione? No, questa è una delle mie maglie che ho usato, ma questa era del 69 quando ero alla Chic, perché nel 68 l'ho vinto con la Faema, però la maglia originale ce l'ho a casa nel cassetto e quindi la spolvero ogni tanto, ma gelosamente la tengo chiusa nel mio cassetto. Tappa che arriva l'8 maggio, lei è presidente del comitato di tappa, ultimi preparativi? L'ultima riunione l'abbiamo fatta l'altro giorno con il prefetto, in prefettura, con il questore, quindi con la parte del pronto soccorso, perché in fondo si pensa sempre all'arrivo in volata del Giro, però c'è il problema della sicurezza, il problema della sanità, se sta male qualcuno, ma soprattutto la sicurezza, perché in fondo attraversano tante strade, la chiusura delle strade, quindi è un problema che non è semplice, invece ho visto la grande disponibilità di tutte le forze dell'Ordine di Parma per fare una buona tappa perché il Giro non abbia problemi. Siamo con Alessandro Freschi, l'altro curatore della mostra del Giro a Parma. Alessandro, sei giovanissimo, eppure hai già repertato tantissimi cimeli sul ciclismo parmigiano, e poi no, e non solo. Sì, ho una collezione di, mi scappa un po' da ridere a dirlo, 25.000 pezzi, raccolti in circa 20 anni di collezionismo italiano ed estero, con Paolo Gandolfi, che è forse il massimo esponente del collezionismo italo-europeo, abbiamo deciso di fare questa mostra per fare un regalo anche a Parma, in occasione della tappa Alba-Parma del Giro d'Italia, come si può vedere dai pannelli qui dietro. Abbiamo deciso di fare un percorso che va dal Giro d'Italia, dai campionissimi, da quelle che sono le statistiche, cose più impensabili, più interessanti, dal record di vittoria di Cipollini, ad arrivare fino al primo straniero d'Ortignac che ha vinto la tappa al Giro d'Italia, passando per pannelli sulle maglie rosa, fino ad arrivare al collezionismo e alle cartoline di ciclisti parmensi. Dobbiamo ringraziare per questo tutti i ragazzi, chiamiamo tra virgolette i ragazzi di Parma, che ci hanno dato materiale per poter organizzare la mostra, maglie soprattutto e non immagini, perché noi deteniamo soprattutto immagini, Adorni, che ci ha messo a disposizione, come vediamo qui, la maglia rosa del 1965, del Giro d'Italia che ha vinto, la maglia ciclamino di Guarazzini, la maglia del traguardo tricolore, sempre di Arco di Guarazzini, le maglie della Salamini di Emilio Casalini, vincitore della famosa tappa del 68 del Grappa, che sono nelle baccheche. Lo svolgimento della mostra poi porta a verire, in un percorso ipotetico, Alba Parma collegato tutte le tappe parmensi dal 1921 fino al 2010, ci vorrebbe un bel punto interrogativo per quella di quest'anno, ci vorrebbe, non, Cavendish direi, se correrà il giro, ma penso che Cavendish ci sarà, abbiamo i pannelli di Adorni, abbiamo la maglia campione italiana di Adorni, tutte le squadre parmensi che hanno fatto il Giro d'Italia, quindi Salamini, Sciche e Salvarani, per arrivare a quello che riguardano le curiosità e quello che io amo di più come pannello, che è quello delle grandi montagne. Con Simone abbiamo condiviso anche tante pedalate in giro per Italia e non, Francia, diciamo, quindi il pannello di grandi montagne, perché il ciclismo si fa sulle grandi montagne, nel mio cuore ha un posto particolare, diciamo. In mezzo abbiamo Bacchè, che è poster, c'è anche Pantani, che è un posto nel nostro cuore di giovani sicuramente più importante di tanti altri corridori, e direi che la mostra è apprezzata, c'è tanta gente, per adesso è andata bene, rimarrà aperta fino all'11 di maggio, chi la volesse vedere, per il giorno del Giro d'Italia è aperta dalle ore 10 alle ore 19, l'orario continuato, noi vi aspettiamo e siamo qua per l'evento. Grazie.